Andremo alla scoperta della Valsesia e di una delle sue perle più preziose, Varallo. E' un borgo davvero particolare, inserito in una riserva naturale meravigliosa ed è un territorio ricco di arte, cultura e storia. Siamo qui al Sacro Monte di Varallo, che è nata proprio con l'intenzione di far conoscere ai fedeli che non potevano andare fino in Palestina, la storia della vita di Cristo. Infatti sono state create queste meravigliose cappelle che vedremo proprio dall'idea di Bernardino Caimi. Alla fine del 1400, quindi c'è questa fontana, abbiamo la chiesa che era gremita di fedeli da tutto il mondo e questo è proprio il clu del Sacro Monte di Varallo. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti